Ascoltate un secondo, ormai esistono decine se non centinaia di marche che vendono dispositivi e in particolare smartphone. Chi ormai negli ultimi anni non ha con sé uno smartphone sempre a portata di mano? Ho visto persone anziane con l'iPhone 14 Pro Max, quindi figuriamoci. Te che stai guardando questo video, quante volte ti è capitato di guardare il tuo telefono in bagno, mentre mangi, prima di dormire? E quanto sei tentato appena ti arriva una notifica sul telefono di vedere chi fosse? E soprattutto la maggior parte delle volte mentre stai studiando e ti distrai. Dai, inutile negare. C'è gente ormai che non gira non più con uno, ma con ben due smartphone sempre in tasca. Che io fra un po' non riuscivo neanche a pagarmi questo. Tutto questo per dire che ormai la maggior parte del nostro tempo la dedichiamo proprio a loro. E per questo è giusto fare una buona scelta quando si va a spendere una cifra abbastanza importante. Ma andando ancora più nel particolare, ormai ci stanno troppe aziende come ad esempio Xiaomi, Oppo, Samsung, che cercano ovviamente come competizione di superare iPhone. Ma secondo me quell'azienda che si avvicina di più sia a livello di software che di hardware è proprio Google, con il suo Pixel 7. Ebbene, questo secondo me è lo smartphone che è davvero capace di competere. Lo soprannominerei anche l'iPhone di Android, ma oggi vediamo anche meglio il perché di questa scelta. Ritorniamo quindi nello studio, se così possiamo chiamarlo, perché è la stessa camera dove effettivamente studio e faccio video allo stesso tempo. Partiamo dal presupposto però che io non ho mai provato o comprato un Pixel 7. Quindi se pensavate che questa fosse una recensione, no, non è il caso. Ragazzi va bene tutto, ma non sono così ricco da permettermi due telefoni. Se voi però mi supportate, vi iscrivete al canale e se questo video vi piace, lasciate anche like, forse un giorno sì sarà possibile. Comunque mi devo comprare qualche filtro per la telecamera perché di fronte al sole è un casino. Quest'anno quindi voglio mettere in luce Google Pixel di settima generazione, perché vi avviso sta emergendo come un vero contendente, soprattutto quando si parla di software. E parliamo di questo modello in particolare perché, come dire, i modelli passati di Pixel facevano un po' pena, dai. Per quello ci stanno i video di Stockdroid. Secondo me Google con il suo sistema operativo Android sta nettamente accorciando la distanza con Apple. Ha dimostrato un impegno straordinario anche per quanto riguarda il design e l'estetica di questo dispositivo, perché, diciamocelo, i primi Pixel non si potevano minimamente guardare. E devo dire anche un bel miglioramento per quanto riguarda la fotocamera. Per favore, non fraintendetemi, non sto dicendo che Google Pixel non ha assolutamente una telecamera buona. Però è ovvio che non sarà ancora mai paragonabile al sensore di iPhone 14 Pro Max, neanche paragonabile al prossimo iPhone 15 Ultra che uscirà a settembre. Però la telecamera è ottima e quel che deve fare lo fa molto bene. Ad esempio, sto utilizzando l'iPhone 11 e comunque la qualità, vi devo dire, è molto buona, anche se è un telefono abbastanza vecchiotto. Sicuramente non avrà neanche la qualità di questa telecamera con i diversi obiettivi che mi permette di fare lo sfocatino dietro il soggetto. Sicuramente però è un ottimo sensore per la fotocamera. Ma non voglio parlare di questo soprattutto, ma del software. Quindi semplicemente voglio dire che Google in questo momento sta facendo veramente un gran lavoro. E voglio dire che secondo me, se continuasse così, l'azienda Google potrebbe addirittura arrivare se non superare l'iPhone, la Apple, la prestazione di iPhone. E finalmente avremo un concorrente, un vero e proprio concorrente che sia in grado anche di battere iPhone. Parlando anche delle animazioni e dell'interfaccia di iPhone, perché fa impazzire alla gente. Come sappiamo, Apple ha un sistema operativo iOS chiuso, totalmente chiuso, al contrario di Android. E devo dire che da questo punto di vista Google si sta impegnando davvero tanto. Google sta continuamente ottimizzando il proprio sistema operativo, proprio per ridurre i ritardi e migliorare le reattività del dispositivo stesso. Come Apple, Google ha una sua linea, line up, se possiamo chiamarla così, di pixel. E ha la possibilità di ottimizzare il software col passare del tempo. Quindi le prestazioni si mantengono da quando lo si acquista fino a un tot di tempo, 3-4 anni, 5 anni come Apple. Oppure Google offre aggiornamenti del sistema operativo regolari, cosa che tante aziende di smartphone non fanno e non faccio nomi ovviamente. E quindi in generale sia Apple che Google riescono ad offrire esperienze di utilizzo molto fluide. Quindi insomma, volevo semplicemente esporre la mia impressione personale. Non so se voi avevate notato questo grande cambiamento rispetto ai Google Pixel passati. Questo secondo me è assolutamente il telefono da prendere. Non dico che costi poco, ma rispetto a 2.500 euro di iPhone 15 oltre a dire proprio di sì. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. E noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video.